Bentornati amici della Non Solo Libre, eccoci qui con un nuovo video di consigli di lettura. In realtà non è propriamente il classico video di consigli di lettura perché voglio solo di discursivamente presentarvi, quindi sarà molto veloce, due nuove case editrici. In realtà una non è propriamente nuova che è la straordinaria Sprea Editore che si è gettata nel mondo, nel mercato appunto dei manga, ma titoli classici di un passato lontano che ritornano tra le nostre mani o per la prima volta finalmente sono nelle nostre mani proprio ad opera di Sprea Editore e li vedremo poi. E altri naturalmente ne usciranno. E un'altra che è Toshokan, eccola qua ad esempio, questo è Yian, scusatemi, eccolo qua, mi ero soffermato molto bello, eccetera eccetera, che ha tirato fuori già di un titolo tra l'altro due numeri e mentre degli altri appunto il solo il primo numero è un numero unico, non solo manga ma anche fumetti da altri paesi dell'est asiatico e via dicendo, del sud est asiatico e così via insomma. Ma prima di iniziare naturalmente a farvi vedere brevemente, ve lo prometto, questi straordinari titoli, vi voglio naturalmente ricordare, bomba, di iscrivervi a questo canale se ancora non l'aveste fatto, di mettere un bel mi piace a questo video e tutti quelli che recupererete e di attivare la campagna e la prima nera sempre aggiornati. Cosa che potete fare anche, voilà, qui sotto è elencato nella descrizione del video, trovate tutti, 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 tutti i link a tutti i nostri social. Vi ricordo anche che una nostra cara amica e insomma una sorta di nostra compagna di viaggio ha una pagina sia Instagram che TikTok che naturalmente YouTube e si chiama Aruka696, la trovate, guardate qui, cercatela ovunque, seguite anche lei perché è straordinaria nel suo modo di esporre e soprattutto di portare alla vostra mente, tra virgolette, appunto, le straordinarie recensioni, i titoli che le sono più piaciuti, che non siano solo ed esclusivamente del fumetto, ma anche libri, quindi narrativa e anche serie animate, serie televisive e quant'altro. Insomma, un modo di recensire a 360 gradi. E per il resto, per il resto iniziamo subito, sigla! Ed eccoci qui ragazzi miei, velocemente ve l'ho promesso e questa volta veramente andrò veloce perché non voglio nella maniera più assoluta darvi un giudizio al momento, è troppo presto, però è giusto che magari in alcune fumetterie, magari più piccole, non avete visto queste due case editrici, io ci butto dentro anche la Ishi Publishing che è uscita da poco e comunque sta tirando fuori delle cose molto interessanti, ok? E quindi in qualche modo un video per proporre, promuovere, presentare, perché è giusto, esce una nuova casa editrice che si sta occupando comunque sia di proporci altre opere interessanti o meno, beh, questo sta naturalmente a noi. Partiamo con Sprea che non è propriamente di primo pelo, è una casa editrice che conosciamo soprattutto per delle riviste, ad esempio heavy metal o ancora più importante nelle fumetterie, naturalmente anime cult, da cui sono usciti degli speciali veramente interessanti, tra cui quello di Bim Bum Bum, che purtroppo al momento sembrerebbe essere fuori catalogo. Esce con tre fumetti, il primo, anzi ve lo tengo per ultimo, quello che diciamo a livello proprio mentale, di memoria storica è quello naturalmente più, non dico interessante, ma quello più ricercato. Comunque sia, partiamo dal straordinario perché, perché comunque è un retaggio di un passato mio personale e di tanti di voi che hanno più o meno la mia età, se non qualche anno in più, me per quelli che ne hanno qualcuno in meno può essere un modo come un altro per andare ad analizzare un passato remoto, diciamo. Sto parlando appunto di Polly Ann, ragazzi miei. Credo che tutte le serie che proporrà Sprea Editor siano di 3 barra 5 massimo volumetti. Costano 9,90 euro, è una produzione che mi ricorda tantissimo i fumetti della Playpress, proprio per come sono fatti e l'inizio di quella che era la GP Publishing, ecco. Non è una critica, capisco che chi si occupa di riviste e venda ancora, sotto certi aspetti, nelle edicole, abbia quel modo di proporre il materiale anche a livello tipografico. I disegni di Polly Ann, li vediamo, sono quelli di un tempo appunto ormai perduto, che possono sembrare, diciamo, scarni sotto certi aspetti, ma vi ricordo sempre gli anni, tra virgolette, in cui questi pezzi di storia sono naturalmente usciti. Qui ci sono poi naturalmente tutte le varie pubblicità, come potete vedere in edicola è sottolineato come se fosse la cosa più importante del mondo, e poi, naturalmente, libreria e fumetteria, non ne faccio una critica assolutamente. Loro comunque hanno ancora oggi nelle edicole un buon mercato e quindi è giusto che cerchino di continuare a sostenersi e a sostenere, insomma. Polly Ann, ragazzi miei, numero uno, dovrebbero essere tre, Manga Classic, 9 ore e 90. E poi, sempre sulla falsa scia, anche se in Polly Ann è una storia, potremmo quasi definirla, drammatica, in questo caso invece abbiamo qualcosa di, diciamo, un pochino più comico, divertente, demenziale, ma che riguarda comunque quella che potremmo definire anche una storia d'amore. Stiamo parlando di Juni Peperina Inventa Tutto, Step Jun, Juni Peperina Inventa Tutto naturalmente in Italia. Come potete vedere ci sono già delle collane, ma manga one shot, perché? Perché questo titolo in realtà è unico, è solo ed esclusivamente questo. In questo caso costa 12 ore e 90 perché è un pochino qualche pagina in più più grande, più più corposo. Anche qui i disegni assomigliano naturalmente, sono quelli, tra virgolette, di tante altre opere, da Renzi la strega e via dicendo, insomma, ok? Perché? Perché anche questi siamo negli anni 80 e sono fondamentalmente quelli di questi autori come Yutaka, sì, Yutaka Scudatemiabe, di appunto Step Juno, Juni Peperina Inventa Tutto e quindi, vabbè, ci sta, tra virgolette. Ci sono tanti elementi, un po' Bulma di Dragon Ball, un po', appunto, un po' Renzi, un po' Crimi, un po' tante cose. E anche questo interessante da prendere in esame, per capire e comprendere appieno, appunto, un passato che non esiste più, ma che dovremmo portare nel cuore. E poi, ragazzi miei, abbiamo quello che vi dicevo, il terzo titolo, altri ne usciranno, ad esempio, uscirà per Sprea Editore, Love Me Night, che è appunto da noi chismilicia, ok? Uscirà, mi pare, quattro volumi o cinque volumi, proprio per Sprea Editore, quindi RvG, credo, non detenga più i diritti e uscirà per loro. Stiamo parlando adesso, però, dei cinque samurai, ragazzi miei, Voroiden, Samurai Troopers, numero uno, tre numeri, in questo caso la collana potrebbe essere Manga Cult, 9,90€, stessa identica qualità che vi dicevo prima, quella, diciamo, da edicola. Va bene, va benissimo, ci sta, lo possiamo in qualche modo leggere senza nessun tipo di problema, non è una, anche nella parte appunto tipografica della chiusura, come posso dirvi, non mi viene adesso il termine tecnico, non hanno fatto un ottimo lavoro, ma al momento per un titolo del genere, che non possiamo pensare che venda un milione di copie, eccetera, eccetera, ce lo dobbiamo far andare bene, 9,90€ alla fine non sono neanche poi così tante. Quindi ragazzi, i cinque samurai, tra l'altro noi li abbiamo presi veramente tanti e in tantissimi l'avete voluto. Perché? Perché è un po' anche qui un ricordo e un rimando al periodo storico dei cartoni animati, quali i cavalieri dello zodiaco e poi naturalmente i cinque samurai. E tanti di noi, io compreso, preferivamo appunto i cinque samurai sotto certi aspetti. Il fumetto è invecchiato, è invecchiato, lo devo dire, ha dei dialoghi, eccetera, che sono effettivamente molto datati, però anche questo fa pensare, fa partire dal presupposto che in un passato remoto questa era la base da cui eravamo partiti per diventare degli assidui e dei lettori consapevoli, ecco, mettiamola così. A me, comunque sia, è piaciuto tanto. E andiamo alla casa editrice Toshokan, ragazzi miei. E partirei con il primo volume che è Wallahian. Allora, qui un plauso, un plauso a Toshokan perché tutti i volumi sono con sovracoperta. Guardate le sovracoperte, questa ad esempio è come se fosse una sorta di poster che ci fa già vedere quale è il viso, il volto truccato naturalmente della protagonista. La protagonista che si chiama, scusatemi, Yan Tie Hua. Come vi dicevo, Toshokan non propone solo manga. In questo caso l'autore che si chiama Chang Sheng è di Taiwan, quindi voglio dire un fumetto taiwanese. E guardate, vabbè, è molto violento, ve lo dico subito. Guardate che bella la grafica, veramente, veramente interessante. Ed è interessantissima la storia perché parla appunto di questa attrice che anni e anni prima muore, sembrerebbe avvelenata via dicendo, eccetera, eccetera. Ma ritorna nelle vesti nei panni, lei era un'attrice appunto di teatro in costume, ritorna con gli stessi abiti e sembrerebbe essere dotata quasi di superpoteri e vuole in qualche modo vendicare il suo assassino e poi anche naturalmente quello che era capitato è capitato alla sua famiglia, diventando anche lei stessa, diciamo, una sorta di assassina. Allora, in questo caso i volumi costano 6,90 euro, quindi la qualità è quella, tra virgolette, permettetemi, un raffronto, quella di J-pop e quindi è giusto che costi fondamentalmente così. Non è né tanto né poco, è giusto, anzi. Il secondo titolo è in realtà un manga del grandissimo Akira Miyagawa e il titolo è Great Trailers, voilà, numero uno. Anche qui sovracoperta, anche qui guardate, guardate che grande impegno e grande attenzione ai particolari. Anche in questo caso 6,90 euro, ok. E qui è un mix tra Legend of Modern Sarah, tra quasi sotto certi aspetti Mad Max. Guardate, Kenny il Guerrero, troviamo tantissime cose. Una sorta di lotta alla sopravvivenza, dove tecnologia, c'è dentro di tutto, c'è Eden, io ci rivedo veramente un casino di cose, anche a livello grafico, tantissimi autori, che in qualche modo questo incredibile, altrettanto maestro Akira Miyagawa, cerca di emulare, ma fondendo assieme, creando appunto il suo personale stile. Se vi piace tutta quella fantascienza alla giapponese simile, appunto, 20th Century Boys, Akira, o Akira, che dir si voglia, e via dicendo, beh, questo veramente è un titolo che io non riesco a non consigliare, anche se avevo detto che non lo avrei fatto. A me è piaciuto, forse tra quelli della Toshokan, diciamo quello che metterei al primo posto, forse, in questo momento. Veramente bello, veramente interessante. Ragazzi miei, un altro manga e un altro grande autore. In questo caso abbiamo Toru Terada, quindi giapponesissimo, e il primo numero è i difensori del confine, ragazzi miei. Anche qui vi faccio vedere, guardate, guardate che bello. Sembra quasi una tenda giapponese, quella da ristorante. Meraviglioso, anche qui dei disegni particolarissimi, in questo caso veramente non ho un riferimento grafico, se non pomponia, eccetera, eccetera. Insomma, quella nuova generazione di grandi artisti, come anche Isai Iwaoka di Aomangio, scusatemi, eccetera, eccetera, mi riporta appunto a questo tipo di idealizzazione grafica, di stile grafico. In questo caso abbiamo una zona, tra virgolette, del Giappone che è legata a un confine invisibile, dove dall'altra parte ci sono appunto mostri, denoni, spiriti e via dicendo. Sempre in qualche modo legati al folklore giapponese. Ci sono dei guardiani che appena una di queste creature oltrepassa il confine combattono la loro battaglia, e cercano di rimandarlo indietro per evitare che entri nel mondo degli umani, insomma. La cosa interessante è che tutte queste battaglie, ai nostri occhi e gli occhi degli umani, sono naturalmente invisibili. Non vedranno nulla, non sentiranno nulla. È molto, molto interessante, ma anche perché dà uno sguardo a quella che possiamo valutare una nuova era, una nuova onda del fumetto di questo genere, spirituale o spiritico giapponese, insomma. Da fare, da fare, da fare. E l'ultimo manga, no, forse ce n'è ancora uno e poi no, sì, sì, scusate, una manga ancora. In questo caso l'autrice è Ciohme, che è il nome d'arte naturalmente, eccetera, eccetera, e è un numero unico in questo caso. Si intitola La Biblioteca Sotterranea e altri racconti. Il racconto principale è appunto quello della Biblioteca Sotterranea. Anche qua, scusatemi, ormai non ve lo dico più, è 6 ore e 90, poi vedremo gli altri. Insomma, la nostra protagonista, mentre sta svolgendo un lavoro in una biblioteca, trova un passaggio segreto e trova dei labirinti. Un labirinto in cui incontrerà strane persone, veramente strane, eccetera, ma soprattutto tantissime biografie, inclusa la sua. Che cosa stanno facendo? Non lo sapremo finché non lo leggeremo. E poi altri racconti, sempre legati in qualche modo a una sorta di effetto memoria sotto certi aspetti. Mi è piaciuto veramente tanto anche questo, naturalmente, ma sta a voi come ogni volta. È un numero unico? Potrebbe essere, guardate sempre che bella la sovraccoperta, potrebbe essere un bel modo per questo, essendo un numero unico quindi inizia e finisce, per conoscere non solo un nuovo autore-autrice, Ciome, ma anche proprio per conoscere la qualità, tra virgolette, di questa casa editrice, sia a livello tipografico che a livello di traduzioni e quant'altro. Quindi, ragazzi miei, se siete ancora titubanti, beh, la biblioteca sotterranea. Ed ecco qua l'ultimo manga. Poi ci sarà ancora un fumetto che non sarà, appunto, diciamo, un manga, mettiamola così, eccetera, ed è quello a cui credo di essermi affezionato di più, perché in questo momento ho bisogno veramente tanto di ridere, di divertimento, di cose leggere. E qui ci ho rivisto Gigi Latrottola, e qui ci ho rivisto tante opere, anche qui di un passato, tra virgolette, che anche nel tratto del grandissimo Mitsuru Miura noi ritroviamo in vino di zucca. Ne sono già usciti due volumi, ragazzi miei, e vi posso garantire che, insomma, non vi pentirete. Anche qui sei ore e novanta, il primo è un pochino più piccolo rispetto al secondo, ma, vabbè, ci sta. Ok, guardate anche qua che bella l'edizione. Di che cosa parla? Guardate, cavoli. Vino di zucca parla di questi due protagonisti, una si chiama Lei Hell, e naturalmente Shunsuke, che è il, diciamo, ragazzo. Elle, come Elle è large, perché lei è veramente grande rispetto alla sua età, ma in generale è una ragazzotta di quelle molto alte, molto grandi, ok? E lui Shunsuke, che è S, è small, è molto molto piccolo, simil Gigi Latrottola. La cosa che ho trovato è non solo, naturalmente, un rimando a tutte quelle storie scolastiche, divertenti comiche, commedia, demenziali, eccetera, che potevamo trovare in Lamu della Rumiko Takashi, che potevamo trovare, appunto, in Gigi Latrottola e via dicendo, ma anche in Orange Road e così via. No, e, oltre a questo, ci sono anche tante meccaniche degli usi e costumi di spaccati di vita, tra virgolette, e non solo, e modi di fare, di vedere il mondo, di vivere, appunto, in questo caso, in Giappone. Anche il contesto dei professori, la violenza che è sempre stata in questo periodo storico, nei vari periodi storici, scusate, voilà, anche nel numero due, naturalmente, vedete quanta qualità e quanta cura questa Toshio-kan, eccetera, noi ritroviamo, perché purtroppo, un po' dal grande Gonagai con La Scuola Senza Pudore, una delle sue prime opere serializzate, se non la prima opera serializzata, diciamo, di quel genere in generale, nelle riviste in Giappone, eccetera, eccetera. Si raccontava di questo rapporto molto burrascoso tra studenti e professori, e che molte volte sfocia in vera e propria violenza, che forse in quel particolare momento non lo abbiamo subito mentalmente così tanto, eccetera, oggi sarebbe difficile riuscire a raccontare una storia del genere. Comunque sia, Vino di Zucca mi è piaciuto, mi sta piacendo veramente tanto. Vedete voi, insomma. Può essere un ottimo titolo, leggero, ma non troppo, che potrebbe in qualche modo farvi conoscere degli spaccati di un Giappone che fortunatamente, almeno spero, non c'è più. E finiamo, ragazzi, con un titolo che inizialmente non avevo capito, forse. Non gli avevo dato il giusto spazio nella mia testa e nemmeno mi ero avvicinato con le giuste precauzioni, cautele, ma anche con proprio l'animo, ok? E che invece a una seconda rilettura, beh, forse, forse, lo potrei mettere al secondo posto di questi titoli, di questa nuova, grande, interessante casa editrice. Sto parlando di l'estate infinita di, scusatemi, io lo dirò così, Lam Hoang Truk, vietnamita e anche il fumetto ambientato in Vietnam. È una graphic novel, anche in questo caso un numero unico, sempre 6,90 euro, sempre queste incredibili sovracoperte, veramente. Guardate poi che bella, la primavera, la primavera e questa potrebbe essere appunto l'estate. È un racconto di crescita adolescenziale di due ragazzi, uomo e donna, Fuong, che però hanno appunto, scusatemi lo stesso nome, hanno questa sfortuna di avere lo stesso nome e tutto, le pressioni a cui i ragazzi anche oggi sono purtroppo a cui sono sottoposti della scuola, della crescita, dell'adolescenza, delle prime emozioni, dei primi amori e di tutte queste cose. E il fatto di vedere, ecco, la cosa che io non avevo voluto valutare, alcuni pezzi si rifanno naturalmente a delle cose che noi non conosciamo che è il Vietnam, cioè la vita in Vietnam e tutto quello che riguarda la vita in Vietnam. Ad esempio, c'è una tatuatrice, ci sono tanti elementi che a una seconda rilettura nel mio caso mi hanno fatto comprendere che stavo leggendo qualcosa che non era un manga e infatti, vabbè, ve l'ho già detto, si legge all'occidentale. È un numero unico, anche qui, come per l'altro che vi ho detto del oh mamma mia, scusatemi, è il la biblioteca sotterranea, mi veniva il labirinto sotterraneo, vabbè, è un numero unico ed è, potrebbe essere un buon modo per conoscere la casa editrice, ma soprattutto per conoscere il fumetto vietnamita, ragazzi miei, perché quando ci è mai capitato, magari sì, qualcosina nel corso degli anni magari è anche uscito, ma qui in questo contesto, in questo formato manga che secondo me rende molto di più, in tanco bono, scusatemi, rende molto di più la possibilità di fruire al meglio del contenuto all'interno. Un'estate, che cos'è un'estate? Non lo so, è un periodo, un periodo che porta alla fine della scuola e l'inizio, il cambiamento radicale e attraversarla significa a un certo punto arrivando alla prima parte, alla fine dell'estate, alla prima parte dell'autunno a qualcosa che ci potrà portare un rinnovamento interiore e non solo e magari delle grandi delusioni e la voglia di riprendere, di ricominciare da zero. Estate infinita, Lam Huang Truk, non ve lo dico, mi verrebbe da dirvi da fare assolutamente, in realtà voglio che voi andiate nelle fumetterie, compresa la nostra, naturalmente diate un'occhiata con le vostre mani in questo caso ai bellissimi disegni perché questi video io spero che siano utili naturalmente anche se li vedete in pochi e non li condividete non mettete un commento neanche a piangere ma voi dovete comunque poi una volta che avete visto il mio video e vi ho incuriosito andate nella fumetteria e toccate con mano può darsi che qualcuno vi incuriosirà ancora di più e diventerà appunto un acquisto e io ne sarei felice perché in qualche modo mi potrei sentire parte di questa vostra scelta altri invece no ed è anche anche questo è giustissimo e potreste iscrivermelo sotto guarda ho letto questo non mi è piaciuto ho letto quell'altro mi è piaciuto grazie oppure non l'ho ancora letto non lo so chi lo sa vedremo mi ha incuriosito questo o quell'altro insomma bon basta ragazzi miei il video è finito io spero che vi abbia divertito interessato naturalmente e per il resto vi aspetto naturalmente in fumetteria ma prima di tutto andiamo ai saluti avete visto ragazzi miei altri straordinari titoli belli brutti non ho voluto assolutamente sì dai mi sono comunque lasciato andare dicendomi questo mi è piaciuto o meno eccetera ma sono gusti personali ma non sono andato ad addentrarmi in maniera un pochino più approfondita ecco per un motivo perché voglio aspettare di tutte queste opere comunque sia i successivi e non solo voglio vedere se queste due case editrici insieme a Ishi Publishing ad esempio che è un'altra nuova casa editrice rimarranno riusciranno in qualche modo a creare una fan base di tanti appassionati come noi appunto e noi stessi e riusciranno in qualche modo a sorprenderci con tanti altri titoli interessanti tante altre opere e via dicendo insomma ci spero veramente tanto perché la qualità almeno di Toshio Kan è molto molto interessante idem quella di Ishi Publishing che però vabbè sulla sulle copertine diciamo i laterali tra virgolette le coste ok in ogni caso ragazzi miei la concorrenza quando è così naturalmente dolce è un toccasana perché? perché mette comunque sia anche le altre case editrici un po' con un po' diciamo sul sul carboni ardenti tra virgolette per poter fare ancora meglio e per capire che bisogna accontentare il lettore naturalmente quello che ci ha fino adesso sostenuto perché queste case sono sostenute da noi che compriamo i fumetti naturalmente beh è la base per il resto io vi ricordo un'altra cosa che forse all'inizio non vi ho detto se ve l'ho detta vabbè mi ripeterò che il giovedì a partire dalle 21 sul nostro canale di Twitch BAM chiacchiera a fumetti io il mio amico Fabio il mio amico Kike insomma ci troviamo per parlarvi di argomenti geek e nerd per intrattenervi vogliamo solo fare quello e vi ricordo inoltre tutti gli altri appuntamenti naturalmente qui sul canale YouTube soprattutto seguiteci e condividete aiutate altre persone che potrebbero essere o pensate possano essere interessate a contenuti del genere di avvicinarsi di conoscerci insomma fatelo 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 vi ringrazio l'unica cosa che vi chiedo non costa nulla e vi permette naturalmente di sentirvi parte di una grande famiglia quella della non solo libri che non vende solo ma ama questi prodotti ama queste opere insomma lo fa col cuore lo facciamo col cuore quindi se siete tra l'altro della zona nella zona beh non vi resta altro che passare a trovarci per il momento è tutto buona lettura ciao ciao